Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti residui e i suoi effetti sul riciclo dei materiali, a poco meno di 5 mesi dall'introduzione, ha portato a risultati insperati. La quota di raccolta differenziata è infatti salita dal 47 al 67%. Nonostante questo successo, rimane il problema dell'abbandono dei rifiuti fuori dai bidoni, spesso vicino alle campane o in altri angoli della città. Un comportamento inaccettabile che fa ricadere su tutti gli altri cittadini i pesanti oneri per le continue e necessarie pulizie dei siti. Secondo le stime di SEAB, il costo giornaliero per la sola raccolta dei rifiuti abbandonati ammonta a 3.200 euro, che equivale ad un costo annuo, calcolato su 310 giorni, di 1.048.000 euro. Controlli e sanzioni sono diventati quindi indispensabili. Ufficio Comunale Tutela dell'Ambiente e del Territorio, Guardie Ecologiche e Polizia Municipale stanno presidiando i luoghi più sensibili della città di Bolzano. La nuova raccolta rifiuti è partita e con questa sono partiti alcuni problemi in città di igiene, di pulizia, di presenza di rifiuti. E quindi le Guardie Ecologiche devono accompagnare questa raccolta con informazioni, con controlli e anche con sanzioni, perché alcune situazioni sono talmente radicate e talmente incivili che necessitano di un controllo e di un sanzionamento anche radicale. Vogliamo insieme con i cittadini tenere pulita la nostra città, perché vogliamo migliorare la raccolta differenziata. Questa raccolta è partita proprio con lo scopo di aumentare la raccolta differenziata. Se ci sono dei dubbi, chiamateci, vi spieghiamo volentieri. Abbiamo il consulente ambientale, abbiamo un ufficio che fa questo apposta e abbiamo anche le Guardie sul Territorio che danno una mano alle aziende, alle famiglie, agli utenti, ai clienti. Il punto è che questa cosa deve essere fatta anche in collaborazione e con la civiltà di tutti i cittadini. Chi non collabora, evidentemente, o non ha capito e va bene, spieghiamo, oppure purtroppo dobbiamo entrare in azione. Oltre alla mancanza di rispetto verso il prossimo, l'abbandono dei rifiuti rappresenta un notevole incremento di lavoro per gli addetti della SEAB, costretti a rimediare a comportamenti che rasentano l'inciviltà. Uomini e mezzi vengono utilizzati per riportare ordine e pulizia quando, invece, sarebbe sufficiente un po' di semplice educazione e buonsenso. Abbiamo, lungo il territorio, diversi punti caldi per quanto riguarda l'abbandono dei rifiuti che stiamo attivamente presidiando sia con gli agenti di polizia ambientale sia con la polizia municipale con la quale eseguiamo delle pattuglie per controllare il territorio. I problemi che riscontriamo più spesso sono l'abbandono dei rifiuti, sacchetti di rifiuti residui, plastica, vetro o anche rifiuti ingombranti. Per quanto riguarda l'abbandono dei rifiuti la sanzione è di 133 euro più le spese di notifica. Per quanto riguarda invece la mancata differenziazione sono 100 euro. I primi controlli sono iniziati, come vedete da queste immagini, già nei mesi estivi. Attività avviata in modo sporadico, infatti sono state 117 le multe da agosto a dicembre 2013. Ma con l'inizio del nuovo anno si inizia a fare sul serio con l'amministrazione comunale decisa a contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti con ogni mezzo possibile. Ogni cittadino, inoltre, ha tutte le possibilità di informarsi ed evitare quindi comportamenti sbagliati. La raccolta non è complicata, è stata spiegata, ripeto, possiamo fare ancora meglio nello spiegarla, ma le cose si sono già conosciute e si sono potute spiegare. Il punto è che noi vogliamo che questa raccolta diventi utile anche per il materiale che raccogliamo, vetro, carta, cartone, plastica, per cui questo sistema potrebbe funzionare con un po' di collaborazione da parte di tutti. Tutte le informazioni sono a vostra disposizione telefonando al numero delle guardie ecologiche 0471 99 7403, al numero della Polizia Municipale 0471 99 77 88, oppure consultando il sito internet del Comune di Bolzano all'indirizzo www.comune.bolzano.it